Buongiorno, buongiorno Presidente Sangalli, buongiorno a tutti coloro che fanno parte di Confcommercio, a tutte le autorità presenti. Io cercherò di rispondere a molte delle sollecitazioni mosse dal Presidente nel suo discorso. Ci siamo visti qui un anno fa, il Governo si era insediato da pochi giorni e abbiamo iniziato un percorso verso la legge di bilancio della fine dell'anno scorso in cui credo che abbiamo vinto insieme delle battaglie e il Governo invece da solo non ne ha vinto ancora qualcuna. Molte cose ci sono da fare, mi fa piacere che insieme siamo riusciti ad ottenere alcuni risultati, parlo del scongiurare l'aumento dell'IVA. Presidente, io lo dico con molta fermezza e chiarezza, l'anno scorso sono venuto qui a dirvi che l'IVA non sarebbe aumentata a dicembre e non è aumentata e allo stesso modo vi dico che l'IVA non deve aumentare e non aumenterà anche nella legge di bilancio 2019 sul 2020. Lo dico però non come semplicemente un annuncio, ma con la credibilità con cui abbiamo affrontato anche le altre questioni, la deducibilità del Limo sui beni strumentali che aiuta anche molto il turismo, non solo le aziende che hanno capannoni, ma in generale la possibilità di non pagare una tassa odiosa su un bene che non è di godimento, ma è un bene che serve a far funzionare l'impresa. E siamo arrivati al 70%, ma lo sa benissimo perché ci abbiamo lavorato insieme nel decreto crescita. L'obiettivo è per l'anno prossimo renderla deducibile al 100% e quindi sostanzialmente eliminare una norma che per quanto mi riguarda era una norma che bloccava il processo di impresa. Sono stato accusato quando abbiamo messo mano alle tariffe E-NAIL di voler addirittura causare più incidenti sul lavoro. Io credo che gli imprenditori avessero il diritto sacrosanto, commercianti, imprese, piccole, medie, grandi, di pagare tariffe E-NAIL parametrate sugli infortuni sul lavoro di questa epoca e non del 99-2000, perché voi avete investito in formazione e sicurezza sul lavoro, avete ridotto gli incidenti, ovviamente ce ne sono ancora tanti e c'è ancora tanto da fare sulla sicurezza sul lavoro, ma è giusto come si paga meno premio assicurativo sull'auto se fai meno incidenti, perché sei stato più attento, allo stesso modo era giusto far pagare il 30%, ma in alcuni casi da quest'anno si pagherà il 50% in meno di tariffe E-NAIL per tutte le imprese che investendo, mettendo soldi e andando dietro anche a delle normative difficilissime sulla sicurezza sul lavoro hanno garantito la sicurezza dei propri dipendenti. Abbiamo trovato i fondi e abbiamo aggiornato di 19 anni le tariffe E-NAIL perché erano ferme al primo anno del 2000, nel 2099-2000. Detto questo non è che possiamo essere contenti di quello che è stato fatto, perché siamo in un momento particolare, mi fa piacere iniziare proprio da dove ha iniziato lei, dall'Europa. Io sono d'accordissimo sul tema che si debbano sbloccare dal parametro deficit PIL gli investimenti, soprattutto quelli nelle infrastrutture. Però mi permetta di dire, Presidente, nello spirito di collaborazione che ci sarà da parte del Governo italiano e della Commissione europea, che la lettera che è arrivata ieri e che riguarda il debito del 2018, quindi è una procedura di infrazione sul debito del 2018, dimostra che l'Europa non ha imparato niente dal passato. Perché ancora una volta ci dice che c'è una congiuntura economica difficile in Europa, dovete tenere fermi i soldi, dovete aumentare l'avanzo primario dello Stato e allo stesso tempo ci dicono che avete un'inflazione che non è sufficiente. Ma queste due cose cozzano tra di loro, cioè si continua con la politica dell'austerity a chiedere all'Italia o di fare tagli da servizi o addirittura causare un aumento delle tasse. E questo non lo permetteremo mai. Ci sarà una trattativa con l'Unione europea, ma ci sarà con la forza di un Governo che ha promesso un cambio di passo in Europa e lo deve ottenere. Perché se la ricetta è sempre la stessa, allora siamo in un paradosso per cui noi a dicembre avevamo chiesto di sbloccare molti più miliardi di euro per gli investimenti nelle infrastrutture e nell'innovazione. E loro, per effetto dei parametri, ci hanno detto che non potevamo sbloccarli. Adesso ci dicono che facciamo pochi investimenti. Allora queste lettere sono abbastanza paradossali. Non le respingeremo al mittente, le discuteremo perché c'è tanto da fare e non siamo perfetti. Ma è chiaro che se fai sempre la stessa cosa e ti aspetti un risultato differente, sei sostanzialmente o in malafede o non competente rispetto ai problemi che abbiamo in questo momento. Io dico una cosa e lo faccio sempre, lo faccio da sempre e lo faccio anche qui. Io voglio ringraziare tutte le imprese italiane perché nei primi tre mesi del 2019, nonostante la difficoltà economica europea, hanno battuto nella produzione industriale, nelle esportazioni e anche nella diminuzione dei disoccupati per valori assoluti, una locomotiva Europa che doveva essere la Germania e che invece sta rallentando. Noi abbiamo fatto meglio in produzione industriale, abbiamo fatto meglio in esportazione e non è grazie al Governo, è grazie a voi, al lavoro che fate ogni giorno e a me piace sempre dire quando ci sediamo ai tavoli, abbiamo fatto tre tavoli da cui è nato anche il decreto crescita, che quando le cose vanno bene il merito è vostro. Quando le cose non vanno bene allora l'impegno e anche la colpa è nostra e dobbiamo fare molto di più. Voglio dirvi su una serie di fronti che cosa ci aspetta. La lettera dell'Europa di ieri ci dice però che dobbiamo abbassare le tasse sul lavoro, che dobbiamo fare più investimenti e dobbiamo investire di più nella green economy. Va benissimo. Allora partendo da questa lettera diciamoci chiaramente che i margini di bilancio di cui discuteremo in Europa perché io non voglio eliminare tutti quelli che sono i limiti, tutti quelli che sono i vincoli, ma svincoliamo ad esempio gli investimenti nel settore delle infrastrutture e in generale anche delle reti in modo tale per esempio da cominciare, lei citava prima tutto il tema delle bollette energetiche, del costo dell'energia in Italia. Bene, svincoliamo un po' di investimenti dal deficit PIL, mettiamoli nelle reti, mettiamoli negli investimenti green e così cominciamo ad eliminare quegli odiosi oneri fissi che ogni giorno un cittadino o un commerciante vede nella propria bolletta energetica. Lo dico perché su questo noi abbiamo una ricetta. Se si svincolano questi investimenti come si svincolano quelli sul cuneo fiscale, noi l'economia possiamo farla ripartire con molto slancio, partendo però da un margine che ci deve incoraggiare, da un dato che ci deve incoraggiare, che nelle peggiori condizioni economiche le nostre imprese riescono a fare meglio di quelle della locomotiva d'Europa. E questo non deve essere un modo per adagiarci sugli allori, ma per andare a quei tavoli e dire che come seconda forza manifatturiera d'Europa abbiamo tutto il diritto ad avere più margini di investimento perché abbiamo il potenziale per fare ancora meglio. Certo, una cosa deve essere chiara, lo voglio dire anche per chi magari non è proprio addetto ai lavori, nel prossimo mese, nei prossimi due mesi a livello europeo si terranno un sacco di tavoli importanti per la trattativa. Quello che nasce dalla lettera di ieri è un percorso che vede una trattativa. L'ho detto stamattina e lo ripeto qui. Noi non dobbiamo commettere l'errore di far fare questa trattativa ai cosiddetti burocrati. Ci vuole un impegno parlamentare e politico perché i politici ci mettano la faccia e non scarichino responsabilità sulle parti amministrative dello Stato, sulle parti burocratiche dello Stato. Ed è per questo che credo, l'ho detto anche alla Presidente Casellati prima, che ci sia bisogno di un impegno prima di iniziare questo percorso di trattativa che passi in maniera trasparente per il Parlamento, che ascolti le parti sociali e che metta al centro quelle che sono le esigenze primarie. Mi è piaciuta molto la descrizione delle due ali e del motore. Sull'innovazione possiamo dirci però una cosa. In questo primo anno tutti gli strumenti che c'erano, Impresa 4.0 e anche gli altri che avevamo al Ministero dello Sviluppo Economico, ho cercato di riparametrarli sulle piccole e medie imprese. Abbiamo abbassato i tetti in modo tale che le grandissime o le grandi non assorbissero tutte le risorse che avevamo a disposizione. E infatti da quest'anno quegli strumenti potranno essere utilizzati da più di quel 4% di imprese italiane che aveva assorbito tutta Impresa 4.0 nei primi mesi della sua esistenza. Però dobbiamo anche dirci che sull'innovazione noi dobbiamo vincere una sfida. Abbiamo il 99% di imprese in media di 15 dipendenti. Questo significa che se vogliamo accogliere la sfida dell'innovazione dobbiamo permettere alle imprese di innovare accedendo a delle risorse che non hanno nei bilanci dell'azienda o nell'organico dell'azienda. Perché innovazione non significa soltanto acquistare un macchinario, significa una nuova filosofia di impresa. Per farlo abbiamo inserito due nuovi strumenti nella legge di bilancio e i decreti ministeriali. Stiamo aspettando solo l'approvazione della Corte dei Conti. Il voucher manager, che è sostanzialmente uno sgravio di 40.000 euro all'anno a tutte le imprese che assumeranno un manager del digitale nella propria piccola impresa. Il 50% di quello che costerà e che decideranno di far costare nell'assunzione il manager del digitale. Perché alle nostre imprese serve un regista che gli consenta oggi di affrontare le nuove sfide tecnologiche senza snaturare l'eccellenza che è fatta dal Made in Italy e dal lavoro manuale dei nostri artigiani, delle persone che producono quei prodotti o di coloro che vendono quei prodotti con grande talento e grande capacità commerciale. Per farlo abbiamo inserito questo strumento. Nascerà nel mese di giugno il Fondo dell'Innovazione, il Fondo Nazionale dell'Innovazione, da un miliardo di euro presso Cassa Depositi e Prestiti che finanzierà le start-up. Lei parlava della diaspora dei giovani dal sud. Molti dei nostri giovani, non solo dal sud, sono a Berlino, a Parigi e a Londra. Perché quelle città, ovvero quegli stati, hanno dei fondi nazionali sull'innovazione da 1 o 2 miliardi di euro con cui hanno finanziato le loro idee innovative che hanno partorito nelle nostre università o nei nostri istituti tecnici. Noi eravamo l'unico Paese europeo a non avere un fondo nazionale sull'innovazione. In realtà avevamo fondi sparsi in tutti gli enti dello Stato. Li abbiamo messi insieme in una sola SGR. Nascerà a giugno, aspettiamo l'approvazione da Banca d'Italia. Questo fondo da un miliardo di euro pubblici e un miliardo di euro privati che finalmente farà in modo, qui siamo a Roma, che la prossima start-up innovativa di un romano nasca a Roma e cresca a Roma e non a Berlino, a Parigi e a Londra, vedendo poi il brevetto depositato a Parigi, Berlino e Londra, aumentando gli asset strategici di altri Paesi che però abbiamo finanziato noi formando quel ragazzo. Questo fondo sarà presso Cassa Depositi e Prestiti e sarà una novità importante per il nostro Paese. Certo, l'innovazione non è solo questa, perché innovazione non è solo tecnologia. Io vedo tante idee innovative di giovani che riscoprono processi o prodotti che producevano o portavano avanti i loro nonni. Lo vedo in tanti settori e tutto questo poi concorre al settore del commercio, perché crea nuovi servizi, nuovi prodotti, nuovi processi. Su questo dovremo tenere ben presente che i prossimi anni l'innovazione non avrà bisogno solo di tecnologia, avrà bisogno di creatività e la creatività non porta necessariamente ad un prodotto tecnologico, ma ad una nuova forma di vendita, di una nuova forma di rapporto col cliente. Su questo credo che l'Italia non sia seconda a nessuno. Siamo il Paese più creativo d'Europa e ovunque andiamo non abbiamo un'ottima reputazione grazie al governo di turno. Ce l'abbiamo grazie all'innovazione più grande che abbiamo creato negli ultimi trent'anni, che si chiama Made in Italy. L'abbiamo portato sui mercati di tutto il mondo e l'anno scorso abbiamo battuto il record storico, anzi segnato il record storico di esportazioni nel mondo. Certo lei parlava di contraffazione, di concorrenza sleale. Ebbene fino a qualche anno fa era difficilissimo riuscire ad ottenere da un altro Stato un controllo per bloccare il parmesan o il falso Made in Italy. Oggi abbiamo una tecnologia, si chiama blockchain. Al Ministero dello Sviluppo Economico ci abbiamo messo 40 milioni di euro. Inizieremo dell'esperimentazione, abbiamo già iniziato dalla filiera agroalimentare, per far sì che sugli scaffali di tutto il mondo, quando un cittadino in tutto il mondo vuole comprare Made in Italy, può verificare sul suo smartphone, attraverso una tecnologia infallibile, se quel prodotto è stato prodotto in Italia o nella sua tracciabilità testimonia che non è un vero Made in Italy. Abbiamo 40 miliardi di euro di Made in Italy vero nel mondo e 100 miliardi di Made in Italy falso nel mondo. Più recuperiamo quel falso Made in Italy, più sblocchiamo opportunità di lavoro per le nostre imprese, per i nostri dipendenti, perché il vantaggio del Made in Italy è che lo puoi portare ovunque nel mondo, ma si deve fare qui, sui nostri territori, con i nostri lavoratori e le nostre aziende. Quindi l'innovazione ci aiuterà anche a tutelare il Made in Italy. Il tema delle infrastrutture. Io sono d'accordo con lei, Presidente, perché quanti provvedimenti si sono fatti negli anni che dovevano sbloccare tutto e poi sono rimasti sulla gazzetta ufficiale, perché c'è una profonda differenza tra quello che c'è scritto nelle leggi e quello che poi accade nella realtà. A volte posso dire la verità, poi io sono in conflitto di interessi, ma molto spesso anche con ottime intenzioni di tutti i governi si scrivono bellissime norme, a volte le scriviamo insieme, poi passano per un'agenzia, per una sentenza, per un ente intermedio e vengono totalmente stravolti. Noi col decreto sblocca cantieri facciamo una serie di cose. Una importante è quella sull'edilizia. Il commercio ha sempre risentito del drastico calo del settore dell'edilizia, anzi quando si ferma l'edilizia a risentirne uno dei settori principali è proprio questo. Bene, abbiamo creato un fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che è un sottoinsieme del fondo di garanzia, che dice che d'ora in poi le imprese che hanno difficoltà nei pagamenti nel settore dell'edilizia, perché sono quelle che molto spesso anticipano di più in una commessa, possono dilazionare il loro debito con l'istituto bancario attingendo al fondo di garanzia pubblico. Questo gli consentirà di non morire, di non licenziare persone, di non far perdere posti di lavoro e quindi permetterà a tutta la rete dei servizi italiani di avere ancora clienti, perché se perdiamo il lavoro e chiudono le imprese in settori strategici come questo è logico che poi si tirano giù tutto il settore del commercio, ma anche del turismo e di tutto quello che ne viene dietro. Ovviamente non è tutto. Il decreto sblocca cantieri fa una cosa molto ardita e secondo me anche da gestire con molta attenzione. D'ora in poi in Italia, se c'è un cantiere che rallenta per la burocrazia, non bisogna fare ogni volta una legge o un decreto per nominare un commissario che vada lì, inderoga le leggi e dica che questo cantiere deve di nuovo riprendere il proprio operato. No, noi creiamo una procedura straordinaria con una norma ordinaria per cui d'ora in poi qualunque sarà il governo in futuro, chiunque ci sarà nei prossimi decenni, potrà scegliere una persona all'altezza, commissaria quel cantiere e gli permette di derogare a tutti quei cavilli burocratici che non consentono la chiusura di un cantiere in senso positivo, la consegna dell'opera nei tempi. Ed è il cronoprogramma. Si fa un cronoprogramma all'inizio. Se l'opera è fuori cronoprogramma, il governo ha il diritto di nominare un commissario e andare in deroga alle mille carte modulistiche che i vari enti mettono su un cantiere, a volte in buona fede e altre per aumentare il proprio peso contrattuale e avere voce in capitolo. Questo varrà da nord a sud sulle grandi, le medie e le piccole opere e secondo me ci consentirà d'ora in poi di poter dire che quando qualcuno non è in grado interveniamo e la cosa importante è fare in modo che ci siano persone competenti ad intervenire perché avranno il potere di andare in deroga ad una serie di norme burocratiche. Io sono d'accordo con quello che diceva su quante tasse sono. Non è solo quanto paghiamo di tasse, ma quante ne sono. E dico su questo che dobbiamo avviare subito un tavolo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani perché non c'è solo un problema di omogeneità di tassazione sui territori ma anche di quali siano le procedure per aprire un'impresa. Abbiamo 8 mila comuni e abbiamo 8 mila modi diversi a volte per aprire un'impresa, per aprire un piccolo negozio, per aprire una piccola azienda. E questo deriva da un titolo quinto della Costituzione che dà più autonomia agli enti locali. Va bene, ma dobbiamo coordinarci in modo tale che questa autonomia sia un vantaggio e non un vantaggio per i nostri imprenditori. Perché se autonomia significa che ognuno ha la ricetta del secolo e la vuole applicare anche per dimostrarsi differente dal sindaco o dal presidente di regione accanto, chi ci va di mezzo. È l'impresa che molto spesso non ha un vantaggio ma ha uno svantaggio da questa corsa ad essere diversi, ad essere più belli. Ed è per questo che qualsiasi provvedimento sull'autonomia va scritto bene, perché altrimenti rischiamo di produrre degli effetti sbagliati. E poi c'è il tema della riforma fiscale. Io credo che dalla lettera che ieri ci è arrivata da Bruxelles, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, abbiamo una grande opportunità, ed è lavorare sul cuneo fiscale. Perché se la loro ricetta per consentirci di migliorare la situazione economica italiana è togliere la tassazione dal lavoro, io sono d'accordo. Se dobbiamo mettere più soldi in circolo, io sono d'accordo. Cominciando dalle imprese, perché sbloccando quello sblocciamo sia le risorse per l'impresa ma anche più posti di lavoro. Questo non richiede necessariamente solo deficit. Il passaggio che lei ha fatto sulla lotta all'evasione è un passaggio che ci vede totalmente d'accordo. Però attenzione su quale evasione. Perché io ho perso la battaglia sulla fatturazione elettronica. Perché quando sono arrivato al Ministero abbiamo rinviato, si ricorderà, per i distributori di sei mesi la fatturazione elettronica. Perché io ci sono arrivato a giugno, a luglio abbiamo approvato nel decreto la possibilità di spostare a dicembre le sanzioni. Perché io sapevo benissimo che non rendere pronte le imprese alla fatturazione elettronica avrebbe poi comportato più oneri e più burocrazia. Ma quando siamo arrivati in legge di bilancio e la volevamo eliminare, abbiamo scoperto perché era stata inserita la fatturazione elettronica. Ovviamente è una scoperta retorica. Perché dovevano trovare l'anno prima 4 miliardi di euro in più. E quindi per la legge di bilancio la fatturazione elettronica valeva 4 miliardi di euro di incassi in più. Quando abbiamo provato a eliminarla ci hanno detto dovete trovare 4 miliardi di euro. Ma in realtà quei 4 miliardi di euro non entreranno mai nelle casse dello Stato. Erano figurativi e hanno sostanzialmente creato un presupposto per cui si introduce un onere burocratico non per la lotta all'evasione ma per fare cassa sempre sugli stessi, su quelli che portano avanti il pagamento delle tasse in maniera onesta da sempre. Quindi se vogliamo parlare di lotta all'evasione per me bisogna necessariamente partire da quelle dinamiche che producono la grande evasione di chi porta fondi all'estero dopo averli guadagnati qui, di chi gioca nei grandi mercati internazionali. E per questo quando serve bisogna rifarsi anche a delle democrazie dei Paesi che lo hanno affrontato il tema della grande evasione dicendo che se sei un grande evasore vai in carcere. Non è che ti facciamo una multa e ti fai i conti rispetto a quanto incassi e quanto devi pagare vai in nego. Ma non sono dell'idea che se dobbiamo fare la riforma sociale la dobbiamo fare a carico di una lotta all'evasione che in realtà lotta all'evasione non è, cioè inserire nuovi oneri burocratici per le piccole e medie imprese o vessare ancora una volta le piccole e medie imprese italiane. Quindi sto molto attento, lo dico qui e lo dirò sempre, quando affronto il tema della lotta all'evasione, a parlare di grandi evasori perché negli anni si è fatto i deboli con i forti e i forti con i deboli e a ripagarne sono stati sempre i soliti esercizi commerciali e le solite piccole imprese. Ovviamente lei ha parlato di un'Europa diversa. Io dico, Presidente, che sicuramente dall'Italia c'è stata una spinta diversa a chiedere un'Europa diversa. Il problema è che in Europa le maggioranze che si stanno consolidando adesso sono purtroppo ancora delle forze politiche tradizionali. Purtroppo per me, poi dipende dai punti di vista. Questo però non ci bloccherà su una grande partita, quella del commissario europeo. Lo voglio dire perché negli ultimi anni abbiamo scelto, è stato scelto in passato, di far rappresentare l'Italia tra i ministri europei nella delega agli affari esteri. Noi abbiamo avuto il commissario alla politica estera dell'Unione europea. Purtroppo sappiamo che a livello europeo ogni governo fa una politica estera per sé e questo secondo me non ci ha aiutato. Se vogliamo difendere un tessuto produttivo come quello delle imprese italiane, che per il 99% è in media di 15 dipendenti, dobbiamo avere un commissario nei ruoli che si occupano di impresa, di commercio, nei ruoli dell'industria. Dobbiamo riambire di nuovo ad un commissario del genere. Non sarà semplice perché con questa lettera e questa procedura che si sta aprendo, questo dibattito e trattativa che si sta aprendo non sarà semplice, però l'Italia è la seconda forza manifatturiera d'Europa. È un paese fondatore dell'Unione europea e pretende un commissario che quando si fanno i parametri di Basilea, quando si fanno le direzioni e i regolamenti, ricordi a tutti che la seconda forza manifatturiera d'Europa ha imprese in media di 15 dipendenti e non si possono fare regolamenti, direttive e parametri per imprese in media di 150 dipendenti, perché altrimenti poi si scarica burocrazia, tassazione e complicazioni su imprese che a volte non hanno neanche la possibilità di avere il consulente amministrativo commerciale o legale per affrontare quel problema. E questo non vuol dire scaricare sull'Europa, ci prendiamo tutte le responsabilità. L'ho detto all'inizio, se ci sono buoni meriti sono vostri, se ci sono colpe sono nostre. Ma è chiaro ed evidente che la grande sfida dei prossimi mesi sarà fare in modo che quando si iscrivono i provvedimenti sulla tassazione, sulle aziende e sul credito in Europa, si tenga presente di una peculiarità, di imprese piccole che noi non vogliamo necessariamente accorpare. Perché io ci sono stato ai tavoli di Bruxelles, mi dicono allora fatele accorpare. Ma il Made in Italy si fonda anche sul principio che chi ha una piccola impresa vuole fare meglio di quello con la piccola impresa lì vicino e ha fatto cose eccellenti in tutto il mondo grazie a questa concorrenza leale che c'era tra i vari soggetti. E non necessariamente le dobbiamo accorpare se non vogliono. Ci lavoreremo insieme e ovviamente c'è tanto da fare, io non dico che va tutto bene. E in un'ottica di stabilità di governo sono sicuro che potremo creare una legge di bilancio che l'anno prossimo ci riveda qui con altri punti segnati. Ne abbiamo segnato qualcuno insieme quest'anno, ne possiamo segnare qualcun altro nei prossimi anni. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.